Santa Brigida di Svezia Nacque a Finstad, in Svezia, nel giugno 1302, da una famiglia nobile e cristiana. Suo padre era governatore della regione del Luplan. Ancora bambina, ebbe un colloquio mistico col crocifisso. Perduta la madre, il padre la diede in sposa a Ulf Gudmarsson. Brigida e Ulf vissero in castità per due anni, dedicandosi alla penitenza e alle opere buone. Poi, in vent'anni, ebbero i loro otto figli. Brigida fu scelta come istitutrice della giovane moglie del re. Nel 1342 intraprese con il marito un pellegrinaggio a Compostela. Morto il marito, Brigida si votò completamente a Dio, fondando un nuovo ordine monastico. Morì il 23 luglio 1373. Nel 1391 venne proclamata santa e rapidamente il suo culto e i suoi iscritti si diffusero in tutta la chiesa. Grazie Grazie.